Francesco Cervino, un'odissea inarrestabile, ottavo successo consecutivo, una squadra superiore un po' a tutti. Sì, buonasera a tutti, stiamo attraversando un buon momento, ci siamo allenando bene, i risultati stanno arrivando. Speriamo di continuare così e arrivare al secondo posto perché ci stiamo provando in tutti i modi. Quando riguarda te, a un certo punto sembrava non arrivare il gol, il diciassettesimo in campionato, poi è arrivato con una bella azione, sei stato molto freddo. Sì, ma devo dare il merito ai miei compagni perché mi metto in condizione di segnare ogni partita al mister. Ci sono stati due minuti di spandamento, però poi è arrivato. Ritorniamo un attimo, una domanda sul sabato scorso, una brutta pagina di sport dove non siete stati trattati benissimo da questo Cefalù, però nonostante tutto avete vinto, avete dimostrato una grande forza, un grande carattere. Beh sì, sono cose che non dovrebbero succedere a questi livelli, però è successo, andiamo avanti e speriamo che non accadano più. Grazie.